In questa scuola ci sono 5 classi di scuola primaria, quindi in media abbiamo un centinaio di bambini. L'Angelo Custode non è nelle situazioni migliori. Se noi consideriamo che i bambini devono frequentare una scuola dove si stia bene, quella sicuramente non è una scuola dove si sta bene dal punto di vista strutturale. È in uno stato quasi di abbandono, le aule non sono per niente accoglienti e tutta la struttura è in pratica fatiscente. La nostra scuola, in particolare il plesso, è al primo piano. Il pian terreno è occupato da un'associazione, il secondo piano è totalmente inagibile. Davanti alla scuola c'è quasi una discarica abusiva perché c'è veramente di tutto, gli infissi sono fatiscenti. Abbiamo dovuto anche provvedere a mettere della colla per topi perché purtroppo sia da giù che dal secondo piano è possibile che entrino. Quindi io devo garantire anche da questo punto di vista che animali come i topi non entrino nella scuola. I disagi sono molti, nel senso che non ci sono riscaldamenti, ma questa non è una situazione soltanto dell'Angelo Custode, ma in generale anche dell'Oberdon per esempio. Ovviamente saranno costretti a tenere in classe i giubbotti. Se lei considera che il secondo piano è inagibile, non ci sono finestre, dal secondo piano entra il freddo tranquillamente. Quindi tutta la scuola in pratica non è una scuola dove il bambino può stare tranquillo e sereno per la sua giornata scolastica. Già io ho incontrato le famiglie subito appena ho preso questo nuovo plesso perché mi è stato assegnato quest'anno. Abbiamo parlato con le famiglie che chiedono di rimanere nel territorio. È ovvio che in questa scuola non si può rimanere. Io ho mandato già una lettera indirizzata al sindaco, all'assessore, alla circoscrizione e devo dire che comunque subito sia la circoscrizione, la terza, che l'assessorevola si sono fatti vedere immediatamente per discutere un po' della situazione. In questi giorni dovremmo un po' vedere come poter risolvere. La prima cosa che pensiamo di fare, visto che c'è lo sfratto esecutivo da questa struttura che appartiene all'Opera Pia Cardinale Ruffini, dovremmo portare i bambini nella sede centrale della scuola primaria, quindi nel plesso Oberdan e di via Spica, per poi poter vedere se si trova una struttura per rimanere nella zona guadagna, perché far uscire questi bambini dal loro quartiere non è la cosa migliore per noi. Vogliamo che un'istituzione scolastica sia nel quartiere in cui vivono i bambini, però dobbiamo anche garantire la loro sicurezza.